Il paradiso delle signore. Trama puntate. Martedì 12 ottobre 2021. Stefania e Ezio cenano insieme e sono felici di ritrovare una sorta di abitazione familiare. È la stessa casa in cui hanno vissuto e cattaneo. Dopo aver mangiato insieme casa cattaneo diventa a tutti gli effetti la nuova abitazione di Ezio. Ben presto vi si trasferiscono anche la compagna dell'uomo, Veronica, e la figlia di lei, la giovane Gemma. Adelaide riesce in brevi tempi a portare a termine il suo piano e raggiungere il suo scopo. Approfittando di un momento di distrazione di Flora ottiene la lettera che Achille lasciò per la sua figlia illegittima. Vittorio decide di fare una proposta a Tina e le mostra una sceneggiatura, cercando di convincerla del fatto che lei sarebbe perfetta nelle vesti di protagonista. L'amato non mostra alcun entusiasmo e al contrario non sembra affatto interessata alla proposta. La cosa appare molto strana a Conti. Stefania continua a vivere il suo momento d'oro ed è felicissima di aver ritrovato suo padre anche nella quotidianità. Allo stesso tempo però la ragazza è preoccupata e intimorita all'idea di doversi sempre interfacciare con quella che è diventata la sua nuova famiglia a tutti gli effetti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.